Quello che vedete è un edificio formicaio e neanche particolarmente grande, se paragonato ad altri. Questo termine si riferisce alla caratteristica architettura degli edifici residenziali che si trovano nelle grandi città asiatiche, come ad esempio Tokyo, Hong Kong, Seoul, Shanghai. Questi edifici sono noti per la loro altezza, la densità abitativa e il design che li fa sembrare una colonia di formiche. Gli edifici formicaio sono stati costruiti per far fronte alla crescente popolazione nelle città asiatiche e alla mancanza di spazio disponibile. In questo edificio gli appartamenti sono molto piccoli e spesso non hanno finestre o solo una finestra molto piccola. Gli abitanti poi utilizzano gli spazi comuni come corridoi come una piccola estensione del loro appartamento. Alcuni vedono questa architettura come un'efficacia soluzione per la gestione della densità abitativa in città sovraffollate, mentre altri la considerano disumana e oppressiva. Diteci la vostra nei commenti!